Piani Federico, CrossFit Gorizia, 2-2 Roma Throwdown, categoria RX. Biancera, 20 kg, 10 kg, 20 kg, 10 kg, wall ball da 9 kg, target, 3,05 metri. Tenere, tenere indietro, busto le mani partituali, peso sul piano. Qua, giusto, esplodo e porto sulla barra. Piccola la soluzione. Takana Klinch, 20 kg, 40 kg. Metri fралタria. 80 kg, 50 kg, 67 kg. bob 카�uan bimbo, Ok, ti gestion. Vamo? Sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, go! Uno, due, tre, quattro, cinque, sette, sette, otto, nove, tre, quattro, cinque, dunque, dint 결, f poetry, cunque, continu, Grazie. Quattro, cinque, sei, sette, otto. Nove, dieci, centi, 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 pelvici, duodici, centici, 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 spiegando, Ti ho guardato, sono ottenuto nella zona dove la scuola fa o quindi non tirano, che era chi sa fare. Come qua? Se si tratta, si tratta dietro, faccio un tetrico che si tratta, lì, si tratta dietro, l'altro sbaglio, questo è, e questo è per chi la mia, se lo spavano qua tutta questa cicla, voglio vedere se si tratta, se si tratta, se si tratta, se si tratta. 8, 9, 30 volte, adesso andiamo a posizione di quanto è, farò un po' di distretti, da 10 centi, su Like e sub 5, e cado al vivo i 2んですi su The 3, 24, 20 volte. Voi vedete il via 1, come vedete, 3, 3, 3, 6, di G'rezzo, 250,עם5,growth, float 5, Cambodia, della buona V plata, Abba Scrov, da nouveau Spagno, apriammo,rau lo so, 12, power up, legno, tanto questo, allargo i piedi, legno, e avvicino, a basso, e preparo, 10, 4, allo,し, go 2 2 3 2 3 5 5 6 5 6 6 Sette 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 12 36 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 9 10 10 10 11 12 11 12 12 13 15 15 15 15 15 16 17 19 19 20 20 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 avere. La Workshop. Vi asaidiamo su. Bu Draw here. Anche a te Charles. 3 4 subito 5 5 6 7 8 3 Oh Dio Dio è un dio è un po' cane 2 3 4 5 6 6 7 8 8 9 9 10 10 11